Il mio tradizionale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, il talk che racconta le cose della nostra isola sotto tutti i punti di vista, da quello politico alla cronaca e in tutto ciò che può riguardare la Sicilia e i siciliani. Abbiamo ormai archiviato le elezioni, hanno seguito anche le lunghe dirette elettorali nelle quali abbiamo raccontato quello che andava succedendo, archiviate anche se ci sono ancora tensioni, problemi a definire alcune sezioni che quindi si stanno bloccando o ritardando per quanto riguarda la regione siciliana, almeno le elezioni, però cominciamo comunque il giro degli eletti e cominciamo dagli eletti alla Camera e al Senato. Il nostro ospite oggi è Davide Aiello, Movimento 5 Stelle, eletto alla Camera, Palermo Settecannoli e il Collegio, giusto? Giustissimo. Non ho sbagliato questo. Assolutamente no. Scherziamo sul fatto che durante la fase elettorale per un paio di volte l'abbiamo chiamato Andrea invece di Davide però è Davide Aiello, lo diciamo molto chiaramente adesso. E allora innanzitutto si tratta di uno dei due che hanno interrotto lo strapotere del centro-destra, 18 i collegi uninominali, due soltanto gli eletti del Movimento 5 Stelle, uno al Senato, uno alla Camera. Alla Camera sei tu, è così che è andata. Sì, grazie Maglio, intanto buon pomeriggio a tutti. Sì è andata così, ho vinto appunto il collegio uninominale di Palermo Settecannoli, un collegio che la maggior parte, diciamo, dei cittadini, anche di chi segue la politica, davano fino a qualche giorno prima appannaggio del centro-destra, quindi la mia vittoria è stata vissuta anche come una sorpresa. Diciamo che ero considerato il cosiddetto outsider, quindi questa vittoria ha avuto anche un sapore ancora più bello, più dolce. Devo dirti che nelle ultime settimane, ma soprattutto negli ultimi giorni avevamo comunque il sentore, la sensazione che stava crescendo comunque una forza veramente propulsiva a vantaggio del Movimento 5 Stelle in questo collegio e per questo permettevi anche di ringraziare tanti palermitani che hanno riposto fiducia in noi e nel Movimento. Il nostro Presidente Giuseppe Conte, come saprai, era candidato proprio nel nostro collegio come capolista, quindi dalla sua appunto visita qui a Palermo abbiamo notato questo entusiasmo e questa voglia di vicinanza verso il Movimento 5 Stelle, quindi questo ha reso possibile anche una vittoria che per molti era difficile da realizzare. Questo ovviamente mi carica molto di responsabilità, sono onorato di rappresentare la città di Palermo e lavorerò ovviamente, come ho sempre fatto in questi anni, per risolvere quelli che sono i problemi della città, i problemi della provincia di Palermo, che sono veramente tanti. Iniziamo questa nuova sfida, sicuramente non avesse diversa, saremo all'opposizione di un governo di centrodestra che a breve vedremo come si formerà, cosa esprimerà, però ciò che sicuramente non faremo mai mancare sarà appunto il nostro impegno, la nostra serietà, la nostra concretezza nel portare avanti quelli che sono i nostri temi, il nostro programma, ma soprattutto un'attenzione veramente importante verso la città di Palermo. Allora, prima di entrare nel dettaglio delle cose che ci sono da fare, di quello che sarà il messaggio che dalla Sicilia porterai a Roma, c'è un dato politico sul quale ragionare, ovvero è una vittoria che è immaturata, sì, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori, che il sistema elettorale con cui si è battuto è un sistema particolare, per cui il collegio aveva un uninominale, quindi con una sfida diretta, ma aveva anche un plurinominale, quindi c'è stato anche, fra virgolette, un effetto trascinamento dalla presenza del Presidente Giuseppe Conte e così via dicendo. Quindi è complesso il sistema, ma in ogni modo hai battuto nomi noti come a sinistra Erasmo Palazzotto, a destra Gabriella Giammanco. Questo è un dato politico? Sì, questo è un dato politico. Ovviamente la legge elettorale ha un sistema misto, un sistema maggioritario in cui vengono eletti i collegi uninominali e il sistema proporzionale appunto in cui scattano i vari seggi. Io devo dire che anche lì c'è stato un ottimo successo. Infatti io sarei stato eletto anche come proporzionale perché sono scattati due seggi nel nostro collegio, anche a livello proporzionale. Questo ovviamente, tu dicevi che ho battuto due cosiddetti big. Io devo dire che personalmente non ho mai creduto nel culto dei big, perché per me fare politica significa portare avanti dei principi, dei valori, degli ideali, cosa che personalmente incarno da quando ho iniziato. Ho iniziato ben dieci anni fa, nel 2012, candidandomi per la prima volta come consigliere comunale a Casteldaccio. Sono stato uno dei primi consiglieri comunali, anzi il primo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle in provincia di Palermo. Quindi il mio è un percorso che nasce, come dire, dal basso. E poi questo comunque mi ha permesso di continuare la mia attività politica, attività che mi ha portato poi ad essere eletto per la prima volta nel 2018 alla Camera dei Deputati. E quindi è un percorso che mi onoro, ovviamente, di poter continuare ancora una volta da parlamentare e da parlamentare nazionale. Quindi molti mi consideravano, come dicevo prima, un outsider nei confronti di due big, ma penso che ciò che conti sia l'espressione del territorio, l'espressione soprattutto di un impegno costante che c'è stato in questi anni. La nostra attività parlamentare, come sai, è un'attività trasparente che tutti i cittadini possono consultare, possono vedere quanto impegno io personalmente ci abbia messo nel raggiungere questo risultato. Quindi è sicuramente un risultato frutto anche del lavoro svolto in questi anni. Ecco, sei al secondo mandato dunque. Sì, sono al secondo mandato. Quindi alla fine di questa legislatura, che però sta cominciando adesso, probabilmente, anzi quasi certamente per quelle che sono regole del Movimento, non ti potrai ricandidare. Che facciamo? Facciamo un altro partito? No, no, assolutamente. Io penso che la politica non sia un mestiere, non sia un lavoro. La politica è principalmente una passione, quindi quando si ha una passione, la passione si può portare avanti, anzi si porta avanti per tutta la vita. E poi in politica non esistono soltanto ruoli elettivi, esiste anche tanto altro. Quindi tanti nel Movimento 5 Stelle hanno dato tanto in questi dieci anni, perché due mandati parlamentari sono dieci anni e ovviamente a loro va tutto il nostro ringraziamento per quello che hanno fatto. Ma come dicevo prima, la politica è più che altro una passione. Quindi la passione politica è quella che non può togliercela a nessuno. Quindi possiamo continuare a fare politica anche senza avere dei ruoli elettivi. E non penso che in Italia ci sia bisogno di fondare nuovi partiti, perché anzi forse ce ne sono addirittura troppi. Come abbiamo visto anche alle ultime elezioni, molti partiti non superano la soglia di sbarramento. Quindi anche lì bisognerebbe forse chiederci, sai si è parlato tanto anche di voto utile, cos'è il voto utile? Gli elettori che votano partiti minori hanno spiegato il loro voto? Io non mi sento dire questo, perché ogni voto è un voto utile. Il voto che non è utile è quello proprio di quelli che invece hanno smesso di andare a votare, perché non si ritrovano più nella politica, non si rivedono più nei partiti tradizionali, o perché sono talmente delusi che decidono quel giorno di astenersi e quindi di non partecipare al momento democratico che è la massima espressione invece che un cittadino dovrebbe sfruttare per poter far sentire la propria voce. Ricordi cosa diceva Borsellino, la rivoluzione si fa nelle piazze, però la vera rivoluzione si fa dentro la gabbina elettorale con la matita in mano perché quel giorno il cittadino ha un potere enorme, la sovranità popolare si esprime col voto. Quindi tanti cittadini che non partecipano più, che hanno smesso di credere nella politica, bisogna proprio andare a motivare questi cittadini, andare a dare veramente un motivo per poter essere rappresentati e poter partecipare al momento elettorale. Quindi non penso che servano nuovi partiti, forse servono nuovi strumenti, nuove idee e nuove opportunità per avvicinare la politica al cittadino. Questo secondo me è molto importante e è la chiave verso la quale dobbiamo sicuramente rivolgere tutte le nostre attenzioni e proporre forse un nuovo modo di fare politica, una politica più vicina al cittadino, più vicina ai bisogni del cittadino e più anche concreta. Ci vogliono esempi concreti di sinergia, proprio dai cittadini fuori dalle istituzioni e cittadini che invece ricoprono ruoli istituzionali. Abbiamo titolato questa puntata a Roma per rappresentare i siciliani, siete però a rappresentare i siciliani almeno negli unionali in due, uno alla Camera e uno al Senato, perché gli altri sono del centro-destra. Sarà più difficile portare delle istanze senza avere una pattuglia che possa supportare queste istanze? Allora, la pattuglia sarà sicuramente meno numerosa, però non per questo sarà meno incisiva. Noi faremo sicuramente un'opposizione intransigente su quelli che sono i nostri temi, il nostro programma, penso ad esempio al reddito di cittadinanza, al superbonus e tante altre misure che dobbiamo porre in essere. Ad esempio la battaglia sul salario minimo, che voglio ricordare significa aumento dei salari rispetto ai lavoratori che molto spesso percepiscono salari veramente bassi. Quelle saranno battaglie che noi continueremo a portare avanti anche da opposizione. La battaglia, ovviamente, come dicevo prima, sarà portata avanti magari da meno parlamentari rispetto alla passata legislatura, ma non per questo mancherà la nostra incisività, la nostra coerenza, la nostra concretezza. Il nostro impegno non lo faremo mai mancare, quindi saremo una spina nel fianco della maggioranza. Allora, entriamo in questi, abbiamo messo tre argomenti, adesso io ne aggiungerò anche un quarto, anzi lo aggiungo subito, poi parliamo degli altri. Ed è quello del caro energia, che secondo me è uno dei grandi temi, forse il primo tema in assoluto da affrontare, perché rischiamo veramente una catastrofe. Sì, si rischia veramente grosso, si rischia uno scollamento, un crollo della tenuta sociale. Il nostro sistema sociale ed economico è messo a dura prova da quello che è l'aumento dei costi dell'energia e del gas, perché questi stanno danneggiando imprese, famiglie e noi, consentimi di dirlo, l'avevamo detto. Il nostro presidente Giuseppe Conte l'aveva detto, che dopo la pandemia si sarebbe presentata una crisi energetica che avrebbe colpito maggiormente le famiglie, le imprese e i lavoratori. Aveva proposto uno strumento importante a livello europeo, un Energy Recovery Fund, sulla falsare riga del Next Generation EU, che poi ha prodotto il PNRR, quindi bisognava intervenire già un anno e mezzo fa, due anni fa, per creare questo strumento che avrebbe sicuramente dato una mano a imprese e famiglie. E invece poi abbiamo visto come sono date le cose. Il governo Conte è caduto, il governo Draghi non ha mantenuto questa stessa linea politica e adesso gli Stati europei si trovano a dover correre ai ripari rispetto a questa scelta. Ormai, sotto gli occhi di tutti, quello che purtroppo stanno subendo le nostre aziende e le famiglie è un aumento sconsiderato dei prezzi, molto spesso ingiustificato, perché si tratta anche di speculazioni sul prezzo del gas e sul prezzo della luce. Mi permetto di dire anche che questo non è direttamente collegato a ciò che poi è successo tra la Russia e l'Ucraina, perché molti pensano che questo sia conseguenza della guerra. Ma anche prima dell'inaspirsi del conflitto russo-ucraino già era previsto che ci poteva essere questo aumento dei costi dell'energia. Quindi ora la politica ovviamente deve dare delle risposte, delle risposte che devono essere immediate, degli avuti immediati, soprattutto per le imprese, perché si rischia veramente un grosso calo per quanto riguarda le imprese che saranno, mi auguro, meno possibili, ma molti sono a rischio fallimento, molti sono a rischio chiusura e quindi noi dobbiamo, come Stato, sicuramente intervenire prontamente per evitare appunto il collasso del sistema economico, sociale e produttivo del Paese. Reddito di cittadinanza è stato un grande tema durante la campagna elettorale, dico sempre non soltanto questa, quando era anche logico che fosse uno dei temi, lo è stato anche durante la campagna elettorale delle amministrative che l'hanno preceduta, ma l'effetto reddito di cittadinanza, quanto ha contato per l'elezione dei 5 stelle? Guarda, sicuramente ha contato, è inutile girarci intorno, però non dobbiamo nemmeno far passare il messaggio che a votarci sono stati soltanto i percettori di cittadinanza. Io penso alle tante imprese che hanno trovato lavoro, hanno avuto un volano importante ad esempio grazie al super bonus, penso a tutti quei cittadini che invece si rivedono nel nostro programma perché sperano nell'attuazione, nella realizzazione di un salario minimo o di contratti non più precari ma più rivolti verso il lavoro stabile e tante altre proposte che porta avanti il Movimento 5 Stelle. Sicuramente il reddito di cittadinanza è stato un tema importante, soprattutto nelle città come Palermo. Il reddito di cittadinanza è stato messo sotto attacco da parte delle altre forze politiche perché quando vediamo un centrodestra fare propaganda e dire aboliamo il reddito di cittadinanza è chiaro che noi siamo lì invece a difenderlo, quindi c'è stato una sorta di spartiacque anche nei confronti dell'elettorato e gli elettori hanno scelto di dare fiducia comunque a una forza politica che il reddito di cittadinanza l'ha realizzato e ha dato uno spiraglio. Bisogna migliorarlo, bisogna migliorarlo significa che le regioni e i comuni devono assumersi delle responsabilità. Quello che non ha funzionato finora sul reddito di cittadinanza sono stati i centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro e poi per quanto riguarda i comuni i cosiddetti PUC, i progetti utili alla collettività. Se i comuni, se le regioni avessero collaborato con lo Stato per mettere in piedi e far funzionare al meglio il reddito di cittadinanza sicuramente ci sarebbero stati meno problemi. Sicuramente bisogna fare più controlli per evitare che ci siano furbetti o delinquenti che percepiscono il reddito di cittadinanza, però questo non significa che il reddito di cittadinanza debba essere abolito. Possiamo parlare di migliorare, di migliorare questo strumento. È mancato o non è mancato, almeno questa è la sensazione, il collegamento fra il reddito di cittadinanza e il mondo del lavoro? È mancato per certi versi, devo dire che intanto della platea totale dei benefici del reddito di cittadinanza, soltanto un terzo può essere impiegato in mansioni lavorative, perché stiamo parlando anche di persone con altri percettori che non sono abili al lavoro e quindi non possono essere… È una misura di sostegno. È una misura di sostegno. Va bene. Bisogna, diciamo, distinguere le due cose, i due ambiti, un ambito di inclusione sociale dove abbiamo visto che il reddito di cittadinanza è stato utile anche in un periodo difficile come quello della pandemia, addirittura oltre al reddito di cittadinanza abbiamo dovuto fare anche il reddito di emergenza per fronteggiare quello che è successo durante gli anni della pandemia. Discorso diverso delle politiche attive del lavoro, dove una responsabilità fondamentale è delle regioni. Noi abbiamo destinato un miliardo di euro alle regioni per potenziare i centri per l'impiego e molte regioni, tra cui la Sicilia, ad esempio, non hanno attivato i bandi per i centri per migliorare i centri per l'impiego, ma questo è successo in tante altre regioni. Purtroppo in Italia funziona così, che se la regione magari è di un colore diverso, di un colore politico diverso rispetto a chi ha proposto questa legge, piuttosto che collaborare si va a ostacolare quella che è la realizzazione di una misura. Quindi d'ora in poi mi aspetto invece più responsabilità per quanto riguarda le regioni e anche i comuni per far funzionare meglio le parti che non hanno funzionato del reddito di cittadinanza. Quindi c'è da fare una riforma oppure no? C'è da soltanto da utilizzarlo così com'è e spingere su queste attività? Ma guarda, io non penso che ci sia da fare nessuna riforma, c'è da mettere in piedi invece quelle che sono appunto delle gestioni, le gestioni dei centri per l'impiego e per quanto riguarda i comuni la gestione dei progetti utili alle collettività. Se partirebbero già questi due aspetti della reddito di cittadinanza, già avremmo fatto veramente un passo avanti. Poi se c'è sicuramente da intervenire, quello lo vedremo, ma noi sicuramente dobbiamo dire che il reddito di cittadinanza ormai è un diritto acquisito degli italiani e noi siamo orgogliosi di averlo realizzato. Un piccolo passo indietro, abbiamo detto di uniforme, la mia opinione, naturalmente la mia, ma te ne chiedo, conferma se la condividi oppure no. Forse questa legge elettorale è un po' confusionaria, ha creato un po' di confusione, andrebbe probabilmente rivista. Possibilmente cercando di evitare quell'incastro fra l'uninominale e il proporzionale e quel obbligo di non poter votare disgiunto, magari quando è capitato quest'anno, non dovrebbe capitare nuovamente, quando invece la legge elettorale siciliana con la scheda a fianco che si votava, permetteva il voto disgiunto. Sono cose sulle quali intervenire? La legge elettorale è assolutamente da cambiare, noi l'abbiamo detto e lo riconfermo anche in questa sede. Tu citavi il voto disgiunto, io direi che è molto importante il voto di preferenza. Gli elettori, oltre a votare un simbolo, devono anche scegliere di esprimere una preferenza nei confronti di un candidato, così come avviene ad esempio alle elezioni regionali, proprio perché, tornando al discorso di prima, dobbiamo cercare di avere una sinergia, un contatto più diretto tra l'elettore e chi viene eletto in Parlamento o comunque all'interno delle istituzioni. Quindi mi sento di dire che una nuova legge elettorale è necessaria, questa è una legge elettorale che il Movimento 5 Stelle non aveva assolutamente votato quando venne approvata dal Parlamento nazionale. Serve una legge elettorale sicuramente migliore di questa, una legge elettorale che permetta al cittadino di poter esprimere un voto di preferenza. Serve una legge elettorale che guardi veramente alle prossime generazioni e non alle prossime elezioni, perché purtroppo spesso accade che le leggi elettorali vengono fatte in funzione del sondaggio elettorale, dell'ultimo sondaggio elettorale utile, soltanto per garantire una parte politica rispetto a un'altra. Io invece penso che bisogna fare una legge elettorale che duri veramente per gli anni a venire, non intervenire ogni legislatura a fare dei piccoli interventi che poi si rivelano essere anche poco utili al Paese. Quindi facciamo un intervento serio sulla legge elettorale, un ragionamento serio che dobbiamo aprire fin dall'inizio della prossima legislatura, non alla fine poi in vista degli ultimi sondaggi appunto per il tornaconto elettorale. Un ragionamento serio va fatto sulla legge elettorale e su questo il Movimento 5 Stelle ovviamente si esprimerà anche con una proposta di legge. Bene, l'altro tema era quello del salario minimo, l'abbiamo nominato un paio di volte ma non abbiamo detto come si può andare a realizzare. Si tratta di fare griglie salariali oppure deve essere un salario minimo nazionale? Si tratta di intervenire sui contratti o si tratta di fare una legge? Come pensate si possa applicare un salario minimo ottenuto, differenziato ritengo per le categorie produttive? Assolutamente sì, infatti quando si parla di salario minimo parliamo di una misura che interessa principalmente le donne, i giovani che adesso lavorano ma lavorano con dei salari bassi. Noi abbiamo in Italia tantissimi lavoratori considerati lavoratori poveri. Alcuni di questi lavoratori ad esempio richiedono anche il reddito di cittadinanza perché rientrano nella soglia ISEE e quindi richiedono il reddito di cittadinanza a integrazione del loro reddito di lavoro. Quindi su questo ci dobbiamo interrogare. Noi quando parliamo di salario minimo orario parliamo di stipendi che non possono andare al di sotto di 9 euro l'ordi l'ora e oggi in Italia sono pochi i lavoratori che percepiscono uno stipendio dignitoso. Quindi per questo bisogna intervenire. Ovviamente noi stabiliamo un minimo da cui partire, quindi una base di partenza uguale per tutti i lavoratori e per molti lavoratori rappresenterebbe veramente un aumento di salario. Poi è chiaro che in base alle proprie mansioni, in base al tipo di lavoro, ognuno potrà guadagnare anche molto di più del salario minimo. Ma l'importante è non scendere mai sotto questa soglia che per noi è una soglia di dignità che non va assolutamente vista a ribasso. Quindi non siamo disposti a pensare a un salario minimo rispetto a questa soglia. Il grande tema è imporlo per legge, aiutare le aziende ad applicarlo, farlo come? Anche perché il rischio che potrebbe venire l'indomani e che metto un salario minimo, l'azienda a quel punto non me lo stabilizza il lavoratore, me lo usa in nero per scavalcare e raggirare il salario minimo. Guarda, questo succede già da adesso. Molti imprenditori non mettono il lavoratore in regola, non lo sottopongono a un contratto regolare, perché appunto pensano che questo sia svantaggioso e che il costo del lavoro sia appunto maggiore rispetto al lavoratore appunto privo di contratto. Quindi si preferisce la strada del lavoro nero e noi ad esempio qui in una città come Palermo è inutile girarci intorno, tanti lavoratori sono costretti ancora a lavorare in nero, altrimenti non avrebbero lavoro. Bisogna intervenire proprio regolando questo, mettendo in condizione le imprese di poter assumere in modo regolare, garantendo dei salari appunto minimi regolati per legge, senza andare ad aggravare quelli che sono i costi appunto del lavoro stesso. Quindi intervenire sicuramente sul taglio del costo del lavoro, il taglio del cuneo fiscale e noi questo già l'abbiamo previsto anche nella scorsa legge di bilancio e mi auguro che il governo successivo, il governo che tra qualche settimana si insederà, continui su questa scia. Quindi intervenire dando gli strumenti alle imprese per poter mettere in regola i propri lavoratori, garantendo comunque dei salari dignitosi, partendo proprio dal concetto di salario minimo. Bene, non sarete al governo, questo mi sembra abbastanza chiaro, sarete all'opposizione, ma anticamente si dice anche dall'opposizione si governa. E allora questo è il tema. Farete opposizione dura, farete opposizione costruttiva, analizzerete i provvedimenti un per uno, farrete qualcosa di nuovo anche al governo. Come vi affronterete questo rapporto con un governo che è certamente di un colore molto diverso? Sicuramente noi saremo all'opposizione di questo governo, ma la nostra sarà un'opposizione intransigente, dove ci sarà da essere intransigenti, ma saremo anche propositivi, ovvero cercheremo di portare avanti, come abbiamo sempre fatto in questi anni, le nostre proposte e il nostro programma. Siccome il nostro è un programma di buonsenso, che guarda alle prossime generazioni, guarda al 2050 e non alle prossime elezioni, noi pensiamo che con il buonsenso, cercando di portare avanti la nostra voce, il nostro programma, possiamo comunque incidere anche portando dalla nostra parte anche l'arco parlamentare. Quindi cercheremo di essere intransigenti, ma sicuramente cercheremo di essere propositivi e incisivi. E su questo ovviamente non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Bene, ringraziamo Davide Aiello che è stato con noi in questi tradizionali 24 minuti, ringraziamo soprattutto voi che ci avete seguito e vi rinnoviamo all'appuntamento per il prossimo Talk Sicilia, quando continueremo questo giro per conoscere gli altri parlamentari eletti sia a livello nazionale, sia a Roma, a Camera e a Senato, sia alla Regione, per cominciare a capire cosa vogliono fare, come la pensano e comprendere quale sarà la loro attività. Ancora grazie a tutti quanti voi e a Davide Aiello, arrivederci al prossimo Talk Sicilia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.